Allora voglio dare la mia testimonianza perché è stato fatto un lavoro meraviglioso, approfondito, realizzato, affascinato e durato un'ora non mi sono neanche accorta, mettendo dentro tutto, storico, commedia, di tutto, con fonti autentiche d'epoca per cui complimenti per questo lavoro ciclopico, spero di vederne altri. Commozioni anche pensando diciamo a questo passato che era veramente indipendicabile, ma tanto che si era di adesso così è stato proprio un po' di rammarico quasi. Mi dite? È stato molto bello e veramente tutti i miei complimenti, siete bravissimi tutti. È stato fatto con molta misura, molta precisione, documentato in maniera perfetta e soprattutto esposto con semplicità e con chiarezza, il che è tipico delle persone preparate. Bellissimo il fatto sul teatro lirico, sul teatro romano di Slow City, pregevolissimo il fatto che tutte le immagini siano originali, quindi i piccoli del Corriere della Sera piuttosto che i titoli dei libri, i disegni, i manoscritti, questo è una cosa assolutamente di pregio che lo rende particolarmente interessante rispetto anche a tantissime altre pubblicazioni o filmatiche che ci sono. Quindi molti complimenti a Slow City, ci auguriamo che continueranno con altre produzioni, pregevoli anche le musiche, addirittura con la direzione di Toscanini, insomma un vero gioiellino. Bravissimi, grazie e ci auguriamo di rivedere presto molte altre produzioni di questo genere. Grazie. Una cosa meravigliosa, romantica, toccante, istruttiva e poi e poi il finale di questa musica, di questo programma di meravigliosi, musica di bassa, cioè mi ha preso veramente molti sentimenti, comunque magnifico. Splendido, avete lavorato in modo meraviglioso e siamo tutti penso soddisfatti e abbiamo preparato parecchio anche noi. Grazie. Bellissimo, veramente un capolavoro, un complimento. Grazie.